Ciao, mi chiamo Sara e oggi vi porterò con me in una mia tipica giornata di lavoro in Minsight. Mi sveglio alle 7 con un bel caffè, mi preparo e in pochi semplici mosse sono pronta per uscire. In Italia siamo ancora in smart working per la maggior parte dei giorni, ma oggi vado in ufficio visto che è un giorno particolare perché ho il primo incontro del Minsight Future Board. Adesso dovrebbero essere circa le 9 e sono arrivate in ufficio. Normalmente prenoto la mia postazione di lavoro al quinto piano. Salgo su e subito inizia la mia giornata. Accendo il pc e come prima cosa controllo le nuove mail. E poi ecco la prima riunione. Durante la mia giornata partecipo a diverse riunioni sia tra colleghi che con il cliente. Riesco a staccare per qualche minuto, giusto il tempo di un caffè e una chiacchiera, ma poi si torna di nuovo al lavoro. Sono le 13 ed è ora del pranzo. Mangio con i miei colleghi e terminiamo sempre con il terzo caffè della giornata. Nel pomeriggio continuo con le riunioni, ma a volte riesco a partecipare a delle iniziative aziendali molto importanti, come quella di oggi del Minsight Future Board. Un momento di condivisione di idee e opinioni tra i miei colleghi e il nostro CEO. E dopo una bella merenda, alle 18 è ora di andare. Spengo il pc, torno verso casa e mi rilasso guardando un po' di tv. Grazie per essere venuti con me.